ciao a tutti i salmoni e bentornati nel nostro canale pacco arrivato facciamo così tutto sto bordello per poi una cosetta così piccola va bene non so come tirarlo fuori cazzo pesa pesa un bel po quindi con questo speriamo di fare dei bei video qui ci abbiamo un pezzo più importante cavalletto ecco qua questa è la web potete vedere è la c 922 pro con il cavalletto quindi tra poco andremo a provarla allora io questo video l'avevo già fatto poco fa tra l'altro mi sono accorto di aver registrato con l'audio quindi era senza audio il video ma in poche parole la logitech ce l'ho avuto già logitech questa qua la c 170 che è una volta molto vecchia quindi ho dovuto fare un piccolo upgrade speriamo sia il primo dei tanti speriamo stavolta visto che lo rivedo il video stavolta con l'audio che l'audio possa essere buono visto che per il momento sarà l'unico audio che avrò quindi microfono per il momento nuovo posso prendere la logitech è una ditta che ci ho parecchi prodotti quindi andava benissimo così io vi ringrazio mettete mi piace spero che spero che più in là ci saranno anche le live sia su twitch che su youtube perché comunque sia a twitch mi piace parecchio nonostante io faccia video su youtube e vabbè la solita campanella che trovate sopra iscrivetevi grazie per i 244 iscritti fatti finora andiamo verso i 300 dai 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 e al prossimo video raga grazie a tutti ciao 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 Grazie a tutti